In apertura il bollettino Covid in Abruzzo con i dati registrati nelle ultime 24 ore diffusi dall'assessorato regionale alla sanità. Ma per conoscere il dettaglio ci colleghiamo con Anna Di Giorgio che saluto. Buonasera Anna. Sì Paolo, buonasera a te, buonasera ai telespettatori del Tg8. Prendiamo la linea in questo momento con la telecamera di Andrea Berardinelli da Chieti. Siamo davanti al Policlinico Santissima Annunziata per darvi i dati contenuti nel bollettino sanitario di oggi, sabato 1 maggio 2021. Diciamo subito che i nuovi positivi al Covid-19 sono oggi 226 ed hanno un'età compresa tra 2 e 94 anni. La provincia che ha fatto registrare oggi il maggior numero di contagi è quella di Chieti con un più 80, seguita dalla provincia di Teramo con più 71, da quella dell'Aquila con più 68 e infine ultima la provincia di Pescara per numero di contagi con un più 7. I tamponi molecolari effettuati sono stati 4.775, quelli rapidi 3.115, tutto questo insieme quindi rapportato al numero dei positivi di oggi porta la percentuale di positivi al 2,9%. Va aggiornato purtroppo anche il bollettino dei deceduti che oggi fa registrare un più 5, i dimessi guariti sono più 25, gli attualmente positivi invece 8.579 con un incremento di più 196. Gli ospedalizzati per Covid-19 in Abruzzo sono 348, il dato in questo caso scende di 26 unità, i posti letto occupati in terapia intensiva sono in tutto 32, anche in questo caso il dato scende di meno 4 e infine in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL ci sono 8.519 persone, dato questo che fa registrare un più 226. E tutto questo ve lo raccontiamo al termine di una settimana che è iniziata con il tanto atteso lunedì 26 aprile, giorno che ha dato il via al cronoprogramma di riaperture stabilito dal decreto Draghi e che è cominciato, lo ricorderete, con la possibilità da parte dei ristoratori di accogliere di nuovo la clientela nei propri esercizi ma negli spazi aperti per servire appunto pranzi e cene. Ci aspetterà un'altra settimana in cui a vedere se saremo bravi a conservare le nostre nuove riacquisite libertà, sarà soltanto il senso di responsabilità che ovviamente ciascuno di noi metterà quotidianamente nelle proprie azioni. Per ora però è tutto, Paolo se sei d'accordo con Andrea Berardinelli da Chieti ti restituiremo la linea.